La nostra idea sia come industriali sia come spessa è quella di cercare di costruire insieme alla regione, agli enti locali e alle aziende del territorio, per territorio intendo dire un territorio vasto che va da Savona a Imperi, al Basso Cuneese, Genova evidentemente, di costruire qui un piccolo laboratorio per riuscire a far nascere nuove start-up, start-up innovative e start-up che possano dare risposte alle aziende dei nostri territori.